Amici Red Bull, siamo da Xiaomi a Mobile World Congress 2016 di Barcellona, un evento che si è appena concluso, dove è stato presentato un nuovissimo flagship, il Mi 5, ne ho ben due varianti in mano. Perché parlo di due varianti? Perché in realtà sono state annunciate tre versioni, tre versioni con diversi tagli di memoria e diverso uso di materiali, nella mia mano destra ho il Xiaomi Mi 5 Pro, ve lo faccio vedere più da vicino, è un dispositivo molto molto bello e molto elegante, abbiamo un display da 5,15 pollici nella parte frontale, risoluzione full HD e veramente un'ottima qualità del pannello con un contrasto davvero davvero ottimo e una qualità dell'immagine molto buona. C'è un tasto capacitivo nella parte frontale del dispositivo, scusate un tasto fisico e due tasti capacitivi nella parte frontale del dispositivo, il tasto fisico funge anche da lettore di impronte digitali per poter sbloccare il terminale e aggiungere un livello superiore di sicurezza al dispositivo. Vi faccio vedere la parte laterale che è curvata ed è realizzata con davvero tantissima cura, abbiamo un vetro posteriore oppure nella variante Pro appunto una ceramica, una nano ceramica molto particolare, la zirconia, che appunto viene curvata su entrambi i lati del dispositivo. E dietro abbiamo anche un modulo fotografico da 16 megapixel, il sensore IMX 298 di Sony, quindi uno degli ultimi modelli con doppio flash LED a due toni di colore. Sul lato destro abbiamo il bilanciare per il volume, il tasso di accensione e spegnimento, nella parte inferiore troviamo invece la porta USB Type-C con speaker e microfono, quindi l'ultimo tipo di connessione per fare la ricarica rapida e scambiare dati con altri dispositivi, invece nella parte superiore troviamo il jack per le cuffie ed evidentemente il sensore ad infrarossi con l'altro microfono. Vi faccio vedere il software, è la MIUI 7 con Android Marshmallow, che diciamo che la MIUI non piace a tutti, a me in realtà non dispiace, è un dispositivo che appare essere molto veloce grazie al processore Snapdragon 820, che nelle tre varianti arriva da 1,8 fino a 2,15 GHz in frequenza, ci sono 3 o 4 GB di memoria RAM a bordo e 64 o 128 GB di storage nel modello più costoso. Vi faccio vedere anche l'interfaccia della fotocamera, che è la classica di Xiaomi, in modalità di scatto, veramente tempi di scatto davvero rapidissimi, si possono effettuare video fino a 4K, quindi diciamo che ci sono di supporto a tutte le risoluzioni più importanti sul mercato, dispositivo che comunque arriva appunto con Android a bordo, c'è il Play Store e lo vedremo soprattutto a partire dal 1 marzo negli store internazionali. Il prezzo attualmente è difficile un po' da convertire comunque perché è in yen, ma diciamo che bisognerà spendere all'incirca 300 euro per il modello base e poi salire per i modelli più avanzati, i modelli più costosi e potenti. Questo è Xiaomi Mi 5 dal Mobile World Congress 2016 di Barcellona, uno dei flagship più interessanti dalla fiera, che sicuramente farà davvero concorrenza a Samsung Galaxy 7 e LG G5 che abbiamo visto proprio qualche giorno fa. Un saluto al prossimo video per Ritmo.com, Andrea Ricci.